Fabio Colloricchio ha rilasciato un'intervista a Uomini e Donne Magazine in cui fa delle dichiarazioni molto forti sul suo rapporto con Nicole Mazzocato e non solo Uomini e Donne Magazine, la verità di Fabio Colloricchio.L'extronista di Uomini e Donne, Fabio Colloricchio, si è trovato al centro del gossip nelle ultime settimane per aver chiuso la sua relazione con Nicole Mazzocato dopo quattro anni Entrambi avevano detto, sui loro profili social, che la decisione è stata presa di comune accordo e che entrambi erano sereni Su Uomini e Donne Magazine Fabio Colloricchio è sceso un po' più nel dettaglio dicendo Lei non era d'accordo con alcune mie scelte lavorative e io con altre sue decisioni Questo ha lentamente consumato il rapporto aggiungendosi a cose più importanti che ci portavamo dietro da tempo Poi ancora due punti.Ci siamo detti addio i primi di gennaio, e da allora non abbiamo più parlato Fabio Colloricchio sul nuovo flirt con Anaya Nirsa.Il DJ era stato pizzicato qualche sera fa in compagnia di Anaya Nirsa, l'ex fidanzata o fiamma di Rama Tra loro c'è stata una cena galante, poi lui l'ha invitata a casa, ma qualcosa l'ha turbato molto Infatti, ha dichiarato, punto sia chiaro, questa persona non rappresenta nulla nella mia vita Si è avvicinata solo per far parlare di sé. Sembrava una persona carina, ma quando ho visto, che ha pubblicato le foto sui social, ho capito che mi ha usato L'ho bloccata, punto Fabio ha confessato di non sentirsi pronto per una nuova storia d'amore Per ora vuole concentrarsi sul suo lavoro di DJ e influencer, punto l'idea di vivere un altro amore, avere dentro casa una donna diversa mi fa paura Fabio colori che ho avvicinato dalle ragazze solo per visibilità, punto nel corso dell'intervista a Uomini e Donne Magazine, Fabio si è lasciato andare ad uno sfogo piuttosto duro Così come ha fatto a Naya Nirsa, pare che anche altre ragazze abbiano cercato di avvicinarsi a lui, ma l'extronista è sicuro che questo avvenga solo per avere visibilità e non perché sono davvero interessate a conoscerlo Fabio con l'orecchio e Nicole Mazzocato, non ci sarà nessun ritorno di fiamma, punto l'hanno detto entrambi sui social, Fabio e Nicole hanno deciso di non sentirsi più Nicole ha scritto sul suo profilo di non essere più interessata a quello che fa Fabio, di essere molto serena e di aver ripreso in mano la sua vita Anche Fabio dice che non crede potrà tornare ad esserci qualcosa tra loro, anche se poi ha detto Ho imparato che la parola mai non andrebbe pronunciata